Eccoci con Giuliano Ezzelini Storti, segretario generale di FICTEM CGL di Vicenza, c'è stato il tavolo di crisi regionale dedicato al caso Foralpa-Alzileri, Ezzelini Storti, com'è andata? Diciamo che c'è stata una registrazione delle posizioni, l'azienda ha ripetito la volontà di chiudere, come parti sindacali e come istituzioni del territorio si è ribadito il concetto che per noi la discussione deve partire togliendo dal tavolo la chiusura del sito e quindi il licenziamento ricordiamo di 400 persone, c'è stata poi alla fine la chiusura da parte della regione che ci ha confermato che è informato anche il Mise e sta collaborando con la regione anche il Mise, cioè il ministero sviluppo economico per dare supporto e trovare una soluzione perseguibile, la regione ha ribadito alla Foral la non volontà di proseguire una discussione che prevede la chiusura, la regione ha proprio detto, ha dato anzi un paio di giorni di tempo all'amministratore delegato, ai consulenti, a Confindustria per dire che è disponibile a discutere, di togliere dal tavolo la chiusura e trovare un sistema per transitare la situazione complicata dovuta principalmente a Covid. L'azienda ha fatto aperture o no? L'azienda non ha fatto aperture, ha semplicemente ribadito le proprie posizioni, poi l'assessorato regionale, l'assessore Donazan ha chiuso dicendo prendetevi un paio di giorni per dirci che non volete più chiudere e volete aprire un tavolo serio di crisi, quindi l'azienda poi non ha replicato, ma è chiaro neanche l'assessore non ha lasciato spazio di replica voglio dire e quindi siamo in attesa di capire se c'è questa volontà, è chiaro che per noi le bandiere vanno tenute alte e la mobilitazione è ancora, voglio dire aperta perché non abbiamo una reale apertura da parte della direzione di fuori. Quindi aspetteremo questi due o tre giorni e poi ci sarà un programma? Aspettiamo, non aspettiamo l'infinito, si avvicinano le ferie di Natale e noi vogliamo avere il buon regalo da parte di Foral che si tolga dal tavolo la chiusura del sito. Se questo nei giorni stabiliti dall'assessore non dovesse arrivare o l'azienda si dovesse inrigidire ancora mantenendo la propria posizione di volontà di chiusura del sito è chiaro che noi metteremo in campo altre iniziative di carattere sindacale.